La musica zera le distanze. Lo sanno bene al civico liceo musicale Riccardo Malipiero di Varese, dove professori e studenti sono pronti a vivere un'esperienza magnifica. A settembre un gruppo di docenti si recherà in Cina per visitare alcune scuole e per proporre ai ragazzi una settimana di campus in Italia da svolgere in ottobre. Una cooperazione che si spera possa crescere nel tempo e che ha l'obiettivo di diffondere nel mondo la qualità dell'Istituto Varesino. Noi visiteremo molti istituti musicali a Shenzhen, nel quale in questi istituti musicali presenteremo la proposta didattica del liceo musicale. Quindi in collaborazione con il signor Ahmed Nabil, che è un imprenditore egiziano, che ha sposato una pianista cinese, ci rechereremo dal 9 al 16 di settembre, visiteremo una decina di scuole e presenteremo il nostro progetto. Questo progetto prevede l'accoglienza di un gruppo di bambini cinesi, bambini dagli 8 e 15 anni, che faranno lezione presso la nostra scuola. Ahmed, imprenditore egiziano che vive da molti anni in Cina, ringrazia il comune di Varese di essere qua ed è molto felice per questo progetto, che è cominciato più di un anno fa con il liceo musicale Malipiero e proseguirà adesso a settembre, momento in cui i maestri andranno in Cina a Shenzhen per presentare il progetto e porteranno una quindicina di ragazzi in Italia ad ottobre presso l'istituto che frequenteranno per una settimana. Il nostro liceo musicale si conferma attraverso questa iniziativa un punto di riferimento della musica a livello locale e nazionale, ma anche a livello internazionale. Con questa esperienza ci sarà infatti la possibilità di trasferire in Cina e in altri paesi quelle che sono le conoscenze e le capacità del nostro liceo. Inoltre, attraverso questa iniziativa e i proventi che il liceo musicale introiterà grazie a questa iniziativa in Cina, si potranno mantenere i costi e le tariffe degli utenti, dei varesini che frequentano il liceo musicale a livelli estremamente contenuti.